1-1 prima Il backstage Tantrax, 80 gocci Si respira un'aria così rilassata, così leggera L'ho clamorosamente uscito dal personaggio Grande comicità italiana Allora ragazzi Siete pronti per partire? Adoro questo entusiasmo travolgente Ma che fa? Ma che fa? Pari il timano di mi nonna E sta borsa andava presa A Caritas Cianlini è figo, pure quando farite Farite è figo Cianlini Cianlini è figo Cianlini pensa che sta girando ancora romanzo criminale Perteribile Attenzione Cianlini E' stato contattato per fare Guglielmo Tell Dove lui interpreta una mela E' stato molto bello Con una ragione del palazzo Ma che fa? Oho, sono scusciato! E' stato molto bello E' più felice, che sono limitato felice che è confuso questo film, noi siamo tutti felici, la gente deve credere nella felicità, parte dalla confusione e finisce con la felicità, è un film felice. Stop! Subito un'altra!